Come ogni anno, presente al Salone di Milano 2017 la casa dei tre di Apason che mette in mostra numerosi novi. Si rinnova la funbike da 689 cm3 con un nuovo look più aggressivo e arriva la versione SP della MT-09. Nel mondo delle sport tourer, la Tracer 900 si aggiorna sia nell'estetica che nella ciclistica per esaltare i punti di forza. Anasce anche la versione GT-P completa di accessori e ricca nel pacchetto elettronico. Yamaha pensa anche alle grandi viaggiatrici. La Maxi Enduro XT1200Z e Super TNR si presenta con un modello Ride Edition pieno di accessori che la rendono pronta l'avventura. Per quanto riguarda le medie cilindrate, la casa dei tre di Apason continua lo sviluppo del prototipo T7. In mostra lo scorso anno ad EICMA. Che si presenta con un nuovo nome. TNR 700 World Ride. Sempre più atteso. Il prototipo affronta un difficile sfida nel 2018 prima di essere lanciato nel mondo della produzione di serie. Intanto scoprite un po' di dettagli tecnici che ha dichiarato Yamaha. Allo stand del Salone di Milano non manca Niken. La prima moto a tre ruote presentata al Salone di Tokyo poche settimane fa. E ci sono anche le due Super BK. E' aggiornata nell'elettronica. Yamaha MT-07 la funbike con motore bicilindrico crossplane si presenta con un nuovo stile P vicino. A quello della sorella maggiore. Le linee P-forti si uniscono a una nuova sella P confortevole in grado di accogliere. Motociclisti di ogni statura. Sar sempre disponibile una versione depo da 35 kW guidabile con patente A2. Scoprite tutti i dati e le foto. Yamaha MT-09 SP-L a regina del Dark City of Japan si evolve con la versione SP. Colorazione grigio-nero con dettagli in blu. Sospensioni completamente regolabili e monoammortizzatore marchiato a Kalins. Confermato il pacchetto elettronico del modello base. Arriver G a gennaio 2018. Yamaha Tracer 900-900 GT la amata Sport Tourer da 847 cm3 si presenta al Salone di Milano 2017. Aggiornata nell'estetica in nome della Praticit. Le linee sono P-moderne e affilate. Il Plexiglas. P-protettivo. Regolabile in altezza manualmente. Aggiornamenti importanti anche su sella. Manubrio e pedane per migliorare il comfort. Nuovo anche il forcellone. Un po' più lungo per garantire P-trazione. Disponibile da marzo 2018 in due colorazioni. A fianco della versione base arriva anche la GT. Il modello full optional della Tracer 900. Borse rigide in tinta con la livrea. Strumentazione a colori con display TFT. Monoammortizzatore con regolazione da remoto del precarico. Quick Shift. Cruise Control. Manopole riscaldate. Disponibile da giugno 2018 in tre colorazioni. Yamaha TNR 700 World Ride. Il prototipo Adventure di Yamaha torna al Salone di Milano. Questa volta ancora più vicino al mondo della serie. Si chiama TNR 700 World Ride. Arriva anche qualche dato tecnico. Come si sospettava, il motore il bicilindrico parallelo da 689 cm3 della MT-07. Mentre il telaio stato disegnato e realizzato per migliorare la guida in fuoristrada. All'anteriore non manca una imponente forcella a steli rovesciati. Il look da vera moto da rally. Cupolino alto. Fianchetti e codine in carbonio e scarico laterale marchiato a crapovi. Sono stati fatti degli accorgimenti per renderla più accessibile ad un'ampia fascia di appassionati. Nel 2018 continuerà lo sviluppo in giro per tutto il mondo. Durante il quale gli appassionati potranno sentirla e vederla più da vicino. Yamaha XT 1200 Z e Super TNR Ride Edition al Salone di Milano 2017. Arriva una versione speciale anche. Per la Maxi Enduro da 1.129 cm3. La Ride Edition equipaggiata con un Pleaxi Glass P alto. Faretti supplementari. Piastra paramotore e con una coppia di nuove borse in alluminio con capacite di carico di 32 litri. Per ciascun bagaglio. Non manca il ricco pacchetto elettronico presente anche sul modello base. La nuova Super TNR Ride Edition si presenta con nuove grafiche e fianchetti in carbonio. Due le colorazioni disponibili da marzo 2018. Yamaha Niken arriva a EICMA 2017. L'esclusiva moto a tre ruote della casa dei tre di Apazon. Telaio ibrido dedicato composto da due parti. Motore tre cilindri da 847 cm3. Forcelle regolabili in precarico ed estensione e monoammortizzatore completamente regolabile. I tecnici di Ivata promettono sensazioni di guida uniche. Merito del tecnologico sistema Yamaha Leaning Multi-Wheel LMW. Utilizzato nel design delle due ruote anteriori. Non manca un ricchissimo pacchetto elettronico che comprende mappature motore. Traction control. Cambio elettronico. Acceleratore elettronico e strumentazione LCD. Il look aggressivo ed estremo. Non vedete l'ora di provarla. Anche noi, la nuova Yamaha Niken Arriver nella seconda mette del 2018. Prossimamente verranno comunicati data di apertura delle prenotazioni online e prezzo. Yamaha YZ FR1 e R1M per il 2018 ci sono aggiornamenti anche per le punte di diamante della gamma. Supersport di Yamaha. La nuova R1M SAR equipaggiata con le volute Smart EC2 e RS. Il sistema P sofisticato mai sviluppato da H-Lynx. Inoltre, stato migliorato il sistema di antimpennata e. Finalmente, arriva il cambio elettronico anche in scalata. Nuova anche la grafica. Come negli anni passati la YZ FR1M SAR disponibile solo previa ordinazione online e clienti. Potranno partecipare all'esclusiva Yamaha Racing Experience. Due giornate in pista dove scoprire al meglio la propria Super BK. Anche la versione base vantare degli aggiornamenti al QuickShift e SAR disponibile in due nuovi colori a partire da marzo 2018.